benvenuti sul mio canale i pomodori sono dei frutti versatili in cucina possono essere consumati freddi in insalate ripieni con molti tipi di farciture oppure caldi in salse sughi o cotti al forno io ve li presento ripieni un piatto che va molto bene portato in tavola durante l'estate e servito come antipasto o addirittura come piatto unico seguito magari da frutta o dolci io preparo la maionese in casa ma se si vuole velocizzare la preparazione conviene usare quella già pronta nel bicchiere del mixer metto l'uovo l'olio il limone l'aceto il sale e frullo fino a ottenere una bella maionese densa ora preparo i datterini li lavo e asciugo riprivo dalla parte interna e li metto capovolti su carta assorbente in modo che si asciugano all'interno adesso lavo il prezzemolo e le foglie di basilico rifivo metto sul tagliere e trito con la mezzaluna aggiungendo anche i capperi trito anche il tonno e le acciughe poi metto tutto in una ciotola aggiungo due cucchiai colmi di maionese aggiusto di sale mescolo il tutto e riempio la sac à poche a questo punto sistemo i datterini sul piatto di portata e li farcisco con il ripieno preparato completo versando un filo di olio di oliva e decoro con qualche foglia di basilico ed ecco un piatto sfizioso che sicuramente non avanzerà adatto anche per chi ha poco appetito vi ringrazio per aver guardato il video vi invito se non l'avete ancora fatto a iscrivervi al canale youtube e se vi piace mettetemi un like condividete e lasciatemi un commento vi saluto al prossimo video ciao